E' chiaro che magari in virtù di questa sosta auspicavamo anche di poter recuperare Sorrentino e Belotti, però hanno ripreso a lavorare, immagino che dalla prossima settimana potranno essere nel gruppo al 100%, se non al 100%, all'80% sicuramente, quindi essere dei nostri. Per quanto riguarda invece, purtroppo nelle ultime giornate, c'è stato un piccolo intoppino, Vendibala e Barreto, che magari oggi faranno ulteriori accertamenti e poi verificheremo quello che possono essere l'eventuale possibilità di utilizzo oppure no. Il Modena è una squadra che sicuramente ha delle qualità, è una squadra che lavora con un allenatore che io ritengo uno dei migliori, dei più bravi nel panorama nazionale, come Novellino, è un allenatore che sa dare un'organizzazione di gioco importante alle sue squadre, uno spirito giusto, una mentalità giusta, quella che serve per poter poi andare a fare risultati e vincere le partite. Lo dimostrano i risultati che ha fatto nei suoi anni di carriera e al di là di questo, quindi c'è stima professionale, ma anche umana, sul lato umano, perché ci conosciamo da tanti anni e è una persona alla quale sono legato anche da affetto. Troianello e Malele sono i candidati maggiori, abbiamo anche Embalo, che è un ragazzo giovane che è appena da pochissimi giorni recuperato da una problematica che ha avuto all'inizio della stagione, quindi abbiamo da poter andare sicuramente con dei ragazzi che hanno lavorato con noi. Poi, come ho detto all'inizio, quando si è chiamati in causa mi aspetto da tutti un contributo importante perché appunto lavoriamo nelle due fasi, nella fase di possesso e di non possesso, tutti alla stessa maniera, quindi quando si è chiamati in campo, in virtù anche delle caratteristiche che possiamo avere, mi aspetto una partecipazione giusta. Sorrentino Cani ha detto bene, ha fatto delle buone gare e Sorrentino ancora non è al 100% della condizione, quindi quando magari da parte dello staff medico ci sarà l'ok definitivo, nello specifico del preparatore dei portieri ci sarà l'ok definitivo, allora anche Sorrentino tornerà a essere dei nostri. Grazie a tutti.